Operazione Shikan, 11 indagati, 3 agli arresti domiciliari, 8 interdetti dall'esercizio di attività di impresa ed un sequestro preventivo di 2 milioni e 500 mila euro. Ad eseguire a San Cataldo l'ordinanza cautelare e le misure disposte dal giudice delle indagini preliminari della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che ha coordinato le indagini, sono stati i Carabinieri e la Guardia di Finanza. I soggetti sarebbero tutti indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata all'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L'indagine, iniziata nel 2020, ha consentito di sgominare un gruppo composto da alcuni imprenditori che, attraverso il metodo della fraude Carosello, avrebbero evaso le imposte simulando una serie consecutiva di vendite di prodotti mai usciti dai magazzini della prima società venditrice. Coinvolgevano anche società estere e italiane interposte, che erano delle mere cartiere. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'organizzazione avrebbe avuto ramificazioni anche sul territorio della Repubblica Ceca, dove sarebbero stati creati stati fittizi per realizzare le frodi. Il tutto per favorire una società con sede a San Cataldo, che attraverso il vantaggio fiscale, si sarebbe assicurata una posizione di supremazia sul mercato degli pneumatici, venduti a prezzi inferiori rispetto alla concorrenza. Il meccanismo complesso è stato ricostruito attraverso l'attività congiunta dei militari del gruppo della Guardia di Finanza di Caltanissetta, che hanno effettuato minuziose analisi contabili e dei carabinieri della sezione operativa del norma.